Per molti amanti dell'arte, Robert Schumann è l'epitome del romantico creativo e tragico, sempre in bilico tra esplosioni di produttività e stati di profonda depressione. Dopo un'infanzia solare, Schumann dovete lottare contro le più profonde opposizioni nella sua vita adulta. Tra queste, la mano destra rovinata che gli impedì di diventare un virtuoso del pianoforte, il divieto di matrimonio da parte del suocero, i gravi disturbi mentali di cui soffrì per tutta la vita, la precoce infezione da sfilide e il falimento come direttore musicale a Düsseldorf. Ma Schumann si lasciò tutto alle spalle, produsse musica celestiale e divenne una voce molto ascoltata come pubblicista musicale. Combinò musica e letteratura in modo unico e divenne uno dei musicisti più influenti e formativi del XIX secolo. Chi era Robert Schumann? Quali luoghi e persone lo hanno influenzato? Un approccio biografico all'artista tedesco del secolo. Robert Schumann nacque nel 1810 in quello che oggi è lo stato tedesco della Sassonia, nella tranquilla cittadina rurale di Zwickau situata a circa 70 chilometri al sud di Lipsia. Nacque in una ricca famiglia di commercianti e grebbe ben curato, ultimo di cinque figli in questa casa dell'alta borghesia. La sua infanzia fu in gran parte spensierata. La famiglia Schumann non aveva preoccupazioni materiali e Robert potè dedicare la sua giovinezza alle sue due grandi passioni, la musica e la letteratura. Il padre possedeva una casa editrice e quindi una biblioteca ben fornita, nella quale Robert trascorreva molto tempo e acquisiva un'ampia conoscenza letteraria. Jean-Paul fu il poeta che Robert Schumann ammirò maggiormente in gioventù. Questo scrittore era controverso all'epoca perché il suo modo di combinare scene grotesche e trame epiche nei suoi romanzi era molto insolito. Robert era affascinato dalla vena romantica di Jean-Paul. Il romanzo Flegaliare e i suoi due personaggi principali, due fratelli di nome Walt e Wult, divennero il leitmotiv della personalità bipolare di Schumann. Robert sentiva il proprio io impulsivo come l'anticonformista e impulsivo Wult. Chiamò questo stato d'animo Florestan. La parte contemplativa del suo essere interiore corrispondeva a Walt. Il malinconico è con i piedi per terra e Schumann lo chiamò Eusebius. D'ora in poi Florestan e Eusebius saranno onnipresenti nelle sue opere e nei suoi scritti, ad esempio quando vent'anni dopo si rivolgerà a Clara. A Florestan il selvaggio, a Eusebius il delicato, lacrime e fiamme prendeteli insieme, in me entrambi il dolore e la gioia. L'instabilità mentale di Schumann accompagnerà la sua vita d'ora in poi. Per molto tempo si è pensato che la sua malattia mentale fosse la schizofrenia, ma dall'inizio di questo secolo, quando sono state pubblicate le cartelle cliniche del suo soggiorno nelle cliniche dei Bonn, si è sospettato un disturbo bipolare. In gioventù Robert fu sempre combattuto se diventare un musicista o un poeta. Robert ecceleva in entrambe le materie. Il fatto che suo padre fosse un editore di libri e che scrivesse lui stesso dei libri deponeva a favore della carriera di poeta. Da lui Robert aveva ereditato la passione per la letteratura e già da bambino aveva imparato ad amare i classici della letteratura. Da studente leciale fondò persino un circolo letterario che riuniva intorno a sé i compagni di scuola che la pensavano come lui. Naturalmente il suo grande talento deponeva a favore della possibilità di diventare musicista. I genitori riconobbero il potenziale di Robert e lo incoraggiarono. Sebbene abbia reggevuto una solita istruzione di base, il suo immenso talento esaurì rapidamente le possibilità degli insegnanti della provincia ed egli rimase un autodidatta musicale in gioventù. In seguita si vendicherà, perché le sue opere orchestrali portano lo stigma, forse ingiustificato, di essere debolmente orchestrate, ma lasceremo qui da parte questa disputa accademica. Schumann era ben consapevole di questa debolezza nella sua formazione musicale. Era chiaro che questa posizione di partenza avrebbe seriamente compromesso il suo sviluppo artistico e il padre si adoperò per fare sì che l'ormai quindicenne si formasse con il famoso compositore Karl Maria von Weber. Due anni prima aveva potuto assistere al Freischütz al Gewenthaus di Zwickau, diretto dallo stesso Weber, e Robert si era entusiasmato per l'opera e il compositore. Le speranze di Robert di fare un apprendistato con Weber si infrangono quando von Weber muore non lo stesso anno. Questo è un colpo terribile per Robert, ma non lo stesso anno ne subisce ancora un più grande. Pochi mesi dopo, il suo amato padre muore all'età di 53 anni. Robert perde in lui non solo un importo e amato, persone di riferimento, ma anche il sostenitore delle sue ambizioni artistiche. Infatti, la madre e il tutore nominato decidono, dopo che Robert ha superato con successo gli esami di maturità, che deve intraprendere lo studio della legge. All'età di 18 anni, Schumann si reccò a Lipsia, a 70 chilometri di distanza per iniziare gli studi. A quel tempo Lipsia era la città delle fiere e delle grandi case editrici di libri, e l'orchestra del Gewenthaus di Lipsia offriva a Schumann un'esperienza di ascolto mai provata prima. Divenne membro di una confraternità e il suo diario testimona il suo stile di vita dissoluto. Schumann non era interessato agli studi poco amati, non erano le lezioni date a determinare la sua struttura quotidiana, ma le visite al pub. Sappiamo molto dei suoi anni da studente, dalle 65 lettere alla madre e dalle nanodottazioni del suo diario. Dal punto di vista artistico, Schumann fu fortunata all'inizio del suo periodo Lipsia perché il rinomato insegnante di pianoforte Wich lo prese come allievo. Tuttavia Schumann non ebbe successo. Il pianista autodidatta mancava sia delle capacità tecniche di un pianista sia delle conoscenze della tecnica compositiva. Il primo anno di studio a Lipsia portò pochi progressi. Schumann è frustrato e concorda con la madre di ricominciare da capo nella città universitaria di Heidelberg dove promette di concentrarsi sullo studio della legge. Ma anche questi 18 mesi sono improduttivi per i suoi studi perché i suoi pensieri ruotano ormai solo intorno alla musica. Per una semplice ragione. Nella vicina francoforte Schumann incontrò il diavolo in persona. Il famoso virtuoso del violino Niccolò Paganini. Ora non c'è più nulla che lo trattenga negli studi. Schumann vuole diventare un virtuoso del pianoforte. Tre mesi dopo il concerto Schumann scrive alla madre «Se seguirò il mio genio mi porterà all'arte». Entro sei anni voglio competere con tutti gli altri pianisti. La madre non è sicura della questione e scrive a Friedrich Wick su richiesta di Robert volendo sapere da lui se il talento di Robert è sufficiente per diventare un musicista professionista. Trepidanti madre e figlio Schumann attendono la risposta di Wick. Wick risponde che può effettivamente fare di lui un grande pianista ma solo se ha la disciplina necessaria. Schumann è un uomo cambiato. Improvvisamente il mondo sembra rosa. Gli viene permesso di riprendere le lezioni di Convick e si esercita come un uomo pestuto. Ciò che accadde in seguito è leggenda. Schumann è insoddisfatto dei suoi progressi e ricorre ad ossidi meccanici. Ma nel frattempo si rovina la mano destra e il medico chiamato diagnostica una lacerazione del muscolo del dito medio. Irrecuperabile. La carriera di virtuoso è fuori discussione. Il secondo tragico incidente riguardo ai suoi rapporti sessuali. Come molti suoi contemporanei Schumann si infetta di sifilide durante un rapporto sessuale. Nel suo diario riporta una brutta ferita che provoca dolore mordente e consumante. Schumann chiama la presunta portatrice Caritas. Ma non sappiamo se esattamente chi sia. Era un amante di lunga data e forse una governante del suo maestro Wich. Ma questo non è certo. In ogni caso, l'infezione di Schumann con la temuta sifilide avrà in seguito conseguenze spiacevoli. Schumann accetta il suo destino e si impegna a vivere come compositore. Nei dieci anni successivi scrive 23 opere tutte esclusivamente per pianoforte. Il fatto che Schumann sia stato in grado di affrontare così rapidamente la perdita della prospettiva di abbandonare la carriera di virtuoso è sorprendente se si considera la sua instabilità psicologica. Poco dopo, infatti, il 23enne sperimenta le prime psicosi scatenate dalla morte prematura dell'amato fratello Julius. Si fa curare e un medico gli consiglia di sposarsi per superare la crisi con l'aiuto di un stile di vita regolamentato. Schumann si videnza quindi con Ernestine von Frieden che, come Schumann, in questo periodo è l'allieva di Wicke. Per le sue composizioni trae ispirazione della sua amata letteratura. In particolare il mondo del suo idolo giovanile Jean-Paul ispira il suo lavoro creativo. Dapprima l'opera lo ispira a scrivere i suoi papillon e poi al suo primo grande capolavoro l'opera numero 9 Carnaval che con il suo programma di contenuti diventa il leitmotiv dei suoi anni da giovane. Ispirandosi alla scena del carnevale del romanzo Flegeliare di Jean-Paul Schumann fa apparire in una sfilata carnevalesca le persone che hanno avuto un ruolo nella sua vita. Prima di tutto la sua amante dell'epoca Ernestine von Frieden che nel carnevale viene chiamata Estrella. Era originaria del villaggio di Asch. Queste sono estattamente le lettere del nome di Schumann che compaiono nella scala musicale tedesca. Schumann utilizzò questi toni come fondo per comporre miniature che attingono tematicamente a questa sequenza di toni e poi assegnò a queste miniature singole persone come Ernestine un corteo carnevalesco fittizio. Oltre a Ernestine gli stati d'animo di Schumann Florestan ed Eusebius appaiono come personaggi di questa danza rotonda e Eusebius in un adagio animato Florestan appassionato con raddobbio di ottava. Con Chopin e Paganini Schumann immortala i colleghi artisti che amira. La più memorabile è stata la marcia dei conventari di Davide contro i filestei. I Davide Spindler erano un gruppo immaginario di persone che si battevano per una musica vera. Schumann disprezzava il burtosismo superficiale dell'epoca e si batteva per una musica romantica e poetica. A tal fine fondò una rivista insieme a persone che la pensavano come lui e iniziò a farsi un nome in questi anni come critico musicale rispettato e visionario. L'ultima persona citata dal trambusto del carnevale avrà un ruolo importante nella sua vita negli anni successivi. Si tratta di Clara Wick la figlia quattordicenne del suo insegnante di musica dell'epoca. L'artista l'aveva già incontrata a nove anni durante le sue visite a casa Wick e rimane colpito dal suo sviluppo artistico negli anni successivi. È il progetto più importante di Wick che vuole farla conoscere come virtuosa del pianoforte grazie al suo straordinario talento musicale. Robert inizia a provare dei sentimenti per lei di conseguenza pone fine alla relazione con le restine e il loro primo bacio è con la quindicenne Clara. Ma Wick non pensa di sprecare la figlia con l'instabile Schumann. proibisce in modo categorico a Clara di vedere Robert e iniziano cinque anni difficili in cui i due possono vedersi solo sporadicamente perché Wick fa di tutto per impedire loro di incontrarsi. Robert non demorde e scrive continuamente musica per lei che le invia ad esempio il bellissimo tema della seconda sezione della Chrysleriana. Dopo i due anni i due si fidanzano segretamente tuttavia Schumann soffre in modo indicibile e la paura di perdere Clara lo porta alla despressione e ai disturbi nervosi. In questo periodo compone la sua magnifica fantasia in do maggiore e scrive alla diciottenne Clara il primo movimento di questa è probabilmente la cosa più appassionata che abbia mai fatto un profondo lamento per te. I due sono così disperati che cercano di far valere il matrimonio in tribunale. Vick intraprende una brutale battaglia difensiva in tribunale. Egli sottolinea la tendenza di Schumann di all'ubriacchezza e sostiene che il compositore frequenta di notte le taverne che intrattiene relazioni con altre donne e fa riferimento alla sua scarsa istituazione economica. Schumann riesce a difendersi con successo dalle accuse e nel 1840 dopo un lungo processo il tribunale concede a Schumann un consenso matrimoniale. Questa decisione scatena in Schumann un'enorme frenesia creativa. Il 1840 diventa il suo Annus Mirabilis il cosiddetto Anna della canzone. Alla fine scrisse 150 canzoni. Tra queste esempio c'è il ciclo di canzoni Dichterliebe che insieme a Müllerin e Winterreise di Schubert è il più popolare di tutti. Forse la più bella canzone di Schumann Mondnacht Notte Lunare proviene da Dichterliebe. Mai le stelle hanno brillato più magicamente che nell'introduzione del pianoforte e mai una voce ha trasportato l'anima in modo più romantico che in Mondnacht di Schumann l'anima l'anima La notte al chiaro di luna trasporta l'ascoltatore nel mistico e nel sopranaturale. Schumann era affascinato da questi mondi intermedi ed era un devoto delle sedute spiritiche. All'epoca erano in voga i tavolini danzanti. In questo felice anno, Canoro, Robert e Clara si sposano nella chiesa commemorativa di Schönefeld. I due sono al settimo cielo e si trasferiscono in un bellissimo appartamento nella Inselstrasse di Lipsia. Ricevono molti amici e artisti come Mendelssohn, Berlioz e Liszt e la casa diventa un salotto artistico dove si discute e si fa musica. Robert trova finalmente la felicità che cercava e Clara dà a Robert due figli nei tre anni all'Inselstrasse. Alla fine i due avranno otto figli insieme. La carriera artistica di Clara passa in secondo piano. Questo corrisponde alle aspettative di Robert perché quanto Schumann era moderno nel suo lavoro di composizione, tanto tradizionale era la sua idea di matrimonio. Cercò sempre di influenzare la vita di Clara e il suo lavoro artistico. In cambio Clara divenne un'importante consigliera della marito, compositore e difficilmente un'opera veniva scritta senza l'esame critico di Clara. Per mantenere la famiglia Schumann dipende da un incarico musicale ben retribuito. Ma le sue speranze di diventare il successore di Mendelssohn al Gewandhaus di Lipsia si infrangono e i due decidono di trasferirsi nella più tranquilla terresta. Poiché i soldi della famiglia sono pochi, Schumann deve cedere a malincuore alle insistenze di Clara per una tournée come pianista. L'opera li porta entrambi fino a Rindrussia nel 1844 e a un grande successo finanziario. Schumann soffre del suo ruolo di appendice della moglie e scivola ancora di più nella crisi. Durante il viaggio è costretto a rimanere più volte a letto e soffre di forti verdigini. A casa a Dresda la depressione si aggrava e viene aggravata da gravi disturbi dell'audito. Alle fine di questi mesi terribili Schumann si riprende e comincia a scrivere per forme più ampie. A Dresda scrive tra l'altro la sua sinfonia in do maggiore. L'opera Genoveva è il suo lavoro più eseguito fino ad oggi, il concerto per pianoforte e orchestra in La minore. Clara Schumann suona la parte del pianoforte nella prima e Ferdinand Hiller, amico di Schumann, dirige l'orchestra di Lipsia. Ferdinand Hiller, amico di Schumann, dirige l'orchestra di Lipsia. Nel 1849 con l'aiuto di Hiller a Robert viene finalmente offerto l'onorevole incarico di direttore musicale comunale nella città renana di Düsseldorf. Schumann accetta con entusiasmo e la famiglia, che nel frattempo è cresciuto fino a cinque figli, si trasferisce a Düsseldorf a 500 chilometri di distanza. Schumann viene accolto calorosamente dall'orchestra e dagli amanti della musica. Questa svolta positiva mobilita le forze creative di Schumann, che scrive la sua terza sinfonia ispirata al Reno che passa per Düsseldorf. Aveva iniziato questo lavoro all'inizio di novembre e poteva presentarlo al pubblico di Düsseldorf solo tre mesi dopo. L'agente di Düsseldorf è entusiasta e alla seconda rappresentazione il pubblico chiede la ripetizione dell'intera opera. Ora bisogna gestire la routine quotidiana di un direttore musicale. L'incarico a Düsseldorf è impegnativo perché Schumann non è solo il responsabile dell'orchestra e di una società corale, ma deve anche tenere concerti regolari in due chiesi a cattoliche ed è responsibile del festival musicale annuale. Come previsto, tutto questo è troppo per Robert, che è anche un padre di famiglia, compone ancora e svolge funzioni sociali. La sua costituzione malata risente pesantemente dello stress. A volte riesce a malapena vedere le notte e la sua capacità di parlare è ridotta, così che lavorare con l'orchestra diventa un calvario per entrambi. Clara si rende conto che la situazione gli sta sfuggendo di mano ed è spesso presente alle prove dell'orchestra, dove sostiene attivamente il marito. Questo atteggiamento è animato da buona intenzione, ma alla fine non fa che aggravare il problema, in quanto fa sì che non vengano prese le misure più urgenti e necessarie. Nell'autunno del 1854, il ventenne Brahms visita i coniughi Schumann su raccomandazione di Joseph Joachim. Brahms viene accolto colorosamente da entrambi e si trattiene a lungo. Schumann è impressionato dal ventenne e pubblica il famoso articolo sulla Neue Zeitricht für Musik che annuncia Brahms come un grande compositore. Questa visita distrae Schumann dalla situazione precaria del suo ufficio e porta alla sua ultima spinta creativa, dandogli la forza di scrivere di nuovo un'opera più grande dopo molto tempo. La sua ultima opera importante, il concerto per violino, viene scritta in poche settimane. Tuttavia, il comitato di Düsseldorf impedisce la prima esecuzione dell'opera che scompare nell'oblio per quasi cento anni. Nel frattempo, la situazione alle sale concerti è ulteriormente degenerata e si conclude con un grande clamore durante una prova d'orchestra. Il Consiglio d'Amministrazione ordina che Robert possa dirigere solo le sue opere. Questo significa niente di meno che deve effettivamente abbandonare il suo posto. Schumann è sconvolto. Dal febbraio 1854 in poi, settimane di illusioni acustiche lo colpiscono, per lo più sotto forma di musica. Nel suo delirio si sente circondato da spiriti che gli presentano una musica a volte orribile, a volte meravigliosa. Elabora questa esperienza nelle sue variazioni fantasma. In autunno, Schumann ha un colasso. Esce di casa di notte, si getta nel reno ghiaggiato e viene salvato da due pescatori. Su richiesta di Robert, Clara lo fa internare in un istituto psichiatrico, dove Schumann viene curato amorevolmente. D'ora in poi comunicherà con il mondo esterno quasi esclusivamente per iscritto. Occasionalmente compone piccole opere in Manicomio. Schumann trascorre 18 mesi in Manicomio, dove il processo di decadimento continua. Solo Brahms e pochi fedeli possono vederlo. Alla fine, Schumann si rifiuta di mangiare. Clara viene convocata per la prima volta dove può dirgli addio. La sifilide progressiva costa la vita a Schumann il 29 luglio 1856, dopo una degenza di due anni. I suoi funerali si svolgono a Bonn. Clara brucia alcuni dei lavori tardivi di Robert e ne chiude altri che ritiene possono danneggiare la reputazione del compositore. Il concerto per violino, ad esempio, riparve solo nel 1933. Clara nascose anche l'esifilide, causa della morte di Schumann, ma la pubblicazione delle cartelle cliniche 150 anni dopo portò alla luce i fatti. Robert Schumann non ne avrebbe avuto bisogno perché la grandezza della sua musica parla da sé. I posteri lo hanno classificato in modo appropriato, come un grande della storia della musica.